Negli studi di TV City, Salvatore Pagano in rappresentanza di un comitato che riunisce tutte le compagnie teatrali di Torre del Greco. In questi giorni il dibattito politico è forte su questa questione del teatro comunale. Voi che cosa chiedete? Abbiamo fondato questo comitato un anno fa, anzi più di un anno fa, il 13 gennaio 2020 esattamente, e rappresentiamo un bel numero di compagnie sia di prosa, di musica che di danza. Noi chiediamo l'acquisizione o la costruzione di un teatro comunale a Torre del Greco. Il teatro comunale è l'immagine culturale di un paese e quindi assolutamente bisogna avere un teatro. Siete già confrontati con l'amministrazione comunale? Varie volte. Diciamo che da parte del sindaco c'è tutta la buona volontà, assolutamente, di accontentarci. Si litica sul fatto che sia meglio acquistarlo oppure costruirlo. Da parte nostra, diciamo, per la nostra esperienza, sarebbe meglio acquisire un teatro già esistente, come, non lo so, l'Iris, il Metropolitan oppure il Corallo. Il teatro deve avere delle caratteristiche ben precise, quindi l'acustica, la visione, quindi sarebbe meglio uno. Costruirne uno ex novo, secondo me, costerebbe molto, molto di più rispetto a rilevare uno già esistente. In questa città ci sono tanti talenti, tante potenzialità, soprattutto tra le vostre compagnie teatrali. Torre del Greco ha una storia, una tradizione teatrale. Infatti quest'anno diversi compagnie torresi hanno avuto molti premi, dalla FITA, Federazione Teatrale Amatoriale, il concorso regionale e alcune parteciperanno anche a livello nazionale. Quindi i riconoscimenti vanno oltre i confini territoriali. Poi noi abbiamo una tradizione, basti pensare a grandi figure del passato, come Elio Polimeno, voglio immaginare, oltre a un impegno sociale, ma anche per il teatro, per il cinema, con la cantata dei pastori, che è proprio il simbolo del teatro a Torre del Greco. Però a Torre del Greco non ha mai avuto, io parlo, un teatro stabile comunale, perché anche se parliamo, diciamo, dell'Oriente, lo stesso Iris, erano teatri privati, gestiti da preavati, che davano la possibilità a compagnia. Ma noi chiediamo proprio un teatro stabile comunale, di carattere pubblico, che offre un servizio pubblico attraverso le compagnie locali. Noi siamo disposti anche a autofinanziare il futuro teatro comunale, attraverso proprio, facendolo vivere, attraverso i nostri spettacoli, attraverso lo sbigliettamento e quindi dare anche un piano di fattibilità. Ma vogliamo che sia un teatro, un teatro con tutti i crismi. Non è così semplice, vorrei dire, alla politica cittadina immaginare un teatro. Come dicevo, diciamo, nel comunicato non sono quattro poltrone e montare due cantinelle, ma bisogna valutare tanti aspetti, aspetti già valutabili in un teatro che è stato già teatro e che ha dimostrato di avere un'acustica, di avere scene, quinte, avere tutto l'iter. Poi si parla del parcheggio, il limite delle amministrazioni comunali di questi anni che non hanno mai fatto una progettazione rispetto all'area di parcheggio e questo parliamo anche per i commercianti della zona. A noi farebbe piacere poterci esprimere attraverso un teatro pubblico cittadino e dare la possibilità ai nostri fruitori di potersi godere lo spettacolo attore del greco e non emigrare in altre città. Quindi rispetto al dibattito politico in corso e alle procedure che l'amministrazione sta mettendo in atto è questa la vostra posizione? La politica deve fare la politica, deve assumersi le loro responsabilità, devono far maturare un dibattito politico ovviamente senza essere strumentali e prendere posizioni da un lato perché magari dall'altro già c'è chi ha preso queste posizioni e allora per occupare spazio politico o mediatico mi butto su un'altra posizione che magari non può essere quella vincente. Quindi di trovare una mediazione, fare una mediazione e trovare una posizione che non metta in campo un'operazione che ci porti forse a vedere un teatro comunale fare altri dieci anni. Iniziamo a capire chi realmente ha un teatro da dare, iniziamo a capire quanto realmente può costare alla comunità perché siamo noi che poi lo paghiamo alla comunità perché a volte la politica ragiona come se fossero soldi loro ma bisogna capire che i soldi sono i nostri e poi iniziamo a fare delle valutazioni. Prima di prendere posizioni di parte valutiamo quali sono le proposte che arrivano e vediamo i costi.